Era tentativo di riconnessione, speriamo un bene perché qui sta arrivando la bufera. L'altra volta pioveva a Roma e questa sera piove in Toscana, qui ovviamente nel Pisano, per cui speriamo che la connessione funzioni, in modo che possiamo ascoltare Pierluigi con una cosa veramente interessante che è la zona di comfort. Intanto vi dico di struccare il botton, se non l'avete ancora fatto, a seguirci sulla pagina ufficiale Amici in Compagnia e di condividere i nostri eventi, i nostri reel o i nostri post, quello che più vi piace. Buonasera Leana, siamo qui in attesa del dottor Pierluigi Avolio. Oggi ho fatto una bella scorpacciata di dirette fra Punto Radio e Dieci Minuti e concludo, speriamo, con la diretta di Pierluigi Avolio che stiamo aspettando. Gli ho inviato il link per passare un'altra mezz'oretta insieme. Oggi sono stata praticamente tutto il pomeriggio con voi, si può dire, no? Però insomma è sempre una cosa bella, ripeto, confrontarsi, leggervi, è sempre un piacere e mi fa sempre piacere che mi seguiate in tutte le occasioni. Allora Leana, mentre aspettiamo Pierluigi a Livorno, ha smesso di piovere? Perché mi sa che... Ciao Gina, anche Gina da Livorno, perché qui sta tuonando, sta facendo un concerto, ecco, e lampeggia anche, sembra che ci siano fuochi d'artificio. Mi sa che fra poco arriva qui la bufera. Buonasera, buonasera Renzo, buonasera a tutti. Ora, questa sera non mi appare l'orario, piove con i tuoni, ecco. D'altra parte ha messo acqua, almeno io ho visto ieri fino a sabato. Siamo d'inverno e ci dobbiamo aspettare la pioggia. Eccolo, Pierluigi, provo ad invitarlo. Vediamo un po' se questa sera ce la facciamo. Qui appisa il disastro. Eh, me lo immagino perché quando piove forte... Ah, ce l'abbiamo fatta questa sera! Ce l'abbiamo fatta, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo forte e chiaro. Bene, bene, l'altra volta per motivi di pioggia non ci siamo potuti sentire, ma insomma... Ma da te piove? No, no, è nuvoloso, fa anche abbastanza caldo. Ecco, invece questa sera piove qui nel Pisano, nel Livornese. Eh, ho letto qualche cosa su internet, ma poi dovrebbe arrivare qui domani. Ah, a proposito Pierluigi, prima che tu inizi, l'invito da parte mia è di Raffalli, perché abbiamo iniziato, amici in compagnia in radio, appena capiti in Toscana, se ci sei un giovedì... Va bene. ...vogliamoli a punto radio, quando vuoi, tanto la stagione è lunga. Va bene, va bene, dai. Mo' me lo segno, direbbe Troisi, volentieri, volentieri, sento l'invito. Eh, te sei sempre il benvenuto, lo sai. Grazie, grazie, grazie. Allora, stasera abbiamo detto che parlavamo di... ...zona di comfort, interessantissimo. Che bellezza, la zona di comfort, quella cosa che ti fa, ti dà l'illusione di comodità, in realtà poi non stai combinando niente, anzi, ti dà molto tempo per pensare. La comfort zone è la madre delle paranoie, perché hai tempo per pensare, quindi pensi, 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 ma non agisci, perché sostanzialmente non vuoi cambiare niente. Anche la comfort zone, dove tu stai male, può essere un momento di stallo, eh. Dici, vabbè, sto male, però in fondo è una cosa che conosci. Tu la conosci, questa cosa, anche se ti fa stare male, te la tieni. Perché rompere qualche cosa, dunque un distacco, sempre, come dire, il sentimento ci risveglia una paura, che la paura è che abbiamo tutti, che è quella dell'ignoto. L'ignoto ci spaventa, tutte le paure sono figlie della non conoscenza. Tu hai paura di una cosa, Francesca, perché non la conosci? Quando dopo l'hai conosciuta, non hai più paura. Quindi la comfort zone è una sorta di stallo, ma è un'illusione, perché comunque nella vita o si va avanti o si va indietro, non ti puoi fermare. Perché è tutto così dinamico, così veloce anche, che in realtà tu vorresti fare una fotografia alla realtà, ma non si può. Perché la vita è come un film, i fotogrammi vanno avanti, la scena cambia sempre, invece tu stai bene, vuoi fare una fotografia a questo star bene e ti adoperi con tutte le tue forze per mantenere intatta questa fotografia. Che non si può fermare, però. E lì nasce la sofferenza. Perché nasce la sofferenza? Perché tu vorresti fermare qualche cosa che non si può fermare. Come dire, non voglio arrivare a domani mattina, non voglio che il sole sorga domani mattina, come fai? Non si può. Per cui la soluzione è lasciarsi andare e accettare, che non vuol dire subire, tutto quello che ci succede. Tutto, eh? Cose belle, cose brutte, tutto. Perché ci piacerebbe che le cose andassero sempre, comunque come ci piace a noi. Qualche volta ci vanno, eh? Ma a volte non proprio nel modo ci arriviamo come vorremmo noi. E quindi cominciamo a soffrire. In realtà la comfort zone è una trappola sostanzialmente, perché non esiste. Questa è l'idea mia, non ho la verità in tasca. La comfort zone non esiste. È un'illusione. Come dicono anche tutte le religioni dell'Oriente, quasi tutte. Dicono, in Oriente, tutto quello che è esterno, che percepiamo con i nostri sensi, è un'illusione. Ma perché? Perché è distorto. Quindi se tu vedi un paesaggio, un tramonto, lo vedi con i tuoi sensi. Io lo vedo con i miei e lo vediamo già diverso. Quindi tutto quello che c'è fuori di noi è un'illusione. Non ci resta che osservare, senza giudicare, quello che accade fuori e dentro di noi. Invece poi siamo, come dire, spinti da questo desiderio di piacere, anche nel senso di piacere proprio di stare bene. Voglio stare bene, no? Ma in realtà poi lo star bene è una condizione psico-emotiva. Se dipende dall'esterno il tuo stare bene, sei condannato all'infelicità. Perché poi questa situazione esterna cambierà e tu cominci a soffrire. Quindi mi piace questa persona, come ci sto bene insieme. Poi le persone si lasciano perché succede. Sto male. Allora dov'è la verità? Che stavi bene prima o stai male dopo? Credo nessuna delle due, perché tu hai delegata a una condizione esterna un tuo stare bene o male. L'ideale sarebbe mantenere un centro interno e dire che qualsiasi cosa mi succeda io mi mantengo in una zona di neutralità. Invece la comfort zone ci intrappola e dice Ah, come sto bene ora. Poi finisce e cominciamo a restare male. E andiamo a ricercare di nuovo quella comfort zone. Di nuovo quello stare bene, che se non stare bene fa surlo. Poi ripeto, la condizione che si può creare ideale è proprio quella di un lasciarsi andare. Basta. Perché la comfort zone dura un periodo breve, come il momento negativo. Non disperate, perché dura poco. Che anche quello cambia. Invece nel momento negativo tendiamo a dire Ma, oddio, e ora? Se questo momento non ce la faccio Questo momento dura un anno o due Io non ce la faccio stare un anno o due così. E invece no, dura uguale. Cioè, è uguale a quello bello. Cioè, c'è un periodo in cui ha un inizio Un periodo di massima espressione e una fine. Francesca, secondo te che cos'è la comfort zone? Ma senti, io ora, correggimi, io ho questa visuale. Cioè, quando stiamo male, è successo anche a me, io ti parlo per me. Sì. Di chiudermi in me stessa, stare nelle quattro mura, ho smesso. Però tante volte mi è successo di chiudermi a casa, guardare il soffitto bianco e soffrire. Ok. Perché secondo me a casa ero riparata dal dolore, invece poi con gli anni, con le varie prove, ho capito che quando ci sono momenti brutti, come hai detto tu, sia, insomma, se due persone si lasciano o qualsiasi altro problema, che sia un lutto, che sia una discussione, almeno io ora l'affronto uscendo. Perché so che se sto a casa, a guardare il soffitto, amplifico quel dolore. Dimmi te, che vuol dire? Ma, guarda, è una reazione del tutto naturale, soprattutto da donna, perché la reazione che avevi tu prima, quella di chiudersi nelle quattro mura, è piuttosto la reazione di un uomo. Tendenzialmente noi uomini, quando stiamo male, tendiamo a chiuderci, tendiamo a isolarci, diciamo così, a rientrare per dirla come farebbero i nostri progenitori, come hanno fatto i nostri progenitori, a chiuderci. Invece, ognuno poi ha il suo modo di metabolizzare questa cosa, un lutto, un momento negativo, alcuni si distraggono, altri ci passano attraverso in maniera diretta, subito. Diciamo, vabbè, dobbiamo affrontare questa cosa, l'affrontiamo. Altri posticipano, procrastinano, poi vediamo, poi vediamo, poi vediamo, magari non l'affrontano mai perché non si sentono pronti per una questione di fiducia personale. Quindi, vedi, ognuno poi ha il suo modo di fare fronte a una situazione, anche facile, nel senso che ci può essere il momento, sai, la fase di innamoramento. Cioè, quella fase in cui quella persona rappresenta un ideale di persona, ma in realtà è una proiezione che fai tu. Cioè, quella persona la vedi come la vuoi vedere, non come è veramente, nella fase di innamoramento. Poi, passati tre, quattro, sei mesi, cominci a vederla per quello che è, perché poi si spengono un po' gli ardori, no, delle prime volte, e dopo si ha una visione più equilibrata. Quindi l'innamoramento, poi, ora stiamo andando oltre la comfort zone, magari non c'entra nulla, l'innamoramento è un'illusione. L'amore è un'altra cosa, perché l'amore è un qualche cosa di profondo, ma è un amore inteso come onnicomprensivo, quindi amore per le piante, per gli animali, per l'universo, per le stelle, per tutto, non per una persona sola. Mentre invece l'innamoramento è un'illusione. Cioè, ah, come sto bene con quella persona, è proprio la persona ideale che ho sempre sognato. Nelle prime fasi, direi, di andarci piano. Poi inizia una fase, appunto, in cui l'amore viene approfondito, si conosce, e può iniziare anche una comfort zone di coppia. Ma è una comfort zone comunque dinamica. Cioè, l'equilibrio, se noi vogliamo intendere comfort zone, come equilibrio, è un equilibrio dinamico. Quindi dobbiamo sempre aggiustarci, adattarci, prendere decisioni, tenere l'equilibrio fondamentale di un'interiore. Perché la sensazione che a te ti può far arrabbiare, ti mette ansia o a me no. Però è quella. Quindi la comfort zone, sostanzialmente, è un termine che, per me, dal mio punto di vista, dalla mia esperienza di essere umano e di professionista, non significa niente. Non saprei dire che la comfort zone. Ma sì, dove stai bene, magari non hai problemi economici, non hai problemi di salute, non hai problemi di coppia, ma esiste questa cosa. Te la faccio a te la domanda. Esiste questa cosa? Ma senti, io parto dal presupposto che se nella vita andasse sempre tutto bene, che noia, che barba, che noia. Io la vedo che anche in presenza... Come ora ti sento un po', perché qui sta avvenendo... Sì, sento... Questo qui è... Ah, è la pioggia forza, io ti sento bene comunque, a parte la pioggia di sotto forza. Ah, meno male. No, no, io ogni tanto ti vedo che ti fermi e non sento quello... Che dici? Mi dicevi, ora ti sento bene. Ho detto, per te, cioè, per me la comfort zone non esiste. Nel senso che è un equilibrio dinamico. Nel senso che magari non hai problemi economici, non hai problemi di lavoro, non hai problemi di coppia, ma esiste questa cosa? Questo ti avevo chiesto. Esiste questa condizione ideale che possa durare per un lungo tempo? No, per un lungo tempo no, però magari ci sono quelle giornate, perché ora non sempre ci si alza con il piede giusto, e magari c'è quella giornata che siamo magari un po' più pensierosi, o per un amore, o per il lavoro, o per un problema di salute. Però appunto, anche io la penso come te, deve essere una cosa dinamica, perché non è che si può stare lì a giorni interi, perché, come hai detto tu, la vita va avanti e non ti aspetta. Poi è dinamica per forza, nel senso che basta guardarsi fuori. C'è l'autunno, c'è l'inverno, c'è la primavera, c'è il giorno, c'è la notte, c'è la giornata buona, c'è la giornata brutta. E anche noi facciamo parte di tutto questo. Anche dentro di noi si alternano le stagioni. L'errore che facciamo è quando pensiamo di poter controllare tutto. Cioè, questa cosa mi piace, allora la controllo e la trattengo così. No, perché non si può, si fa una fatica tremenda, per quello poi magari si va in esaurimento, si va in stanchezza, che stress, e come fai a controllare tutto? Cioè, bisogna essere anche un po' filosofi, nel senso, bisogna dire che le cose comunque vanderanno al loro posto, che non è il posto che ci piace a noi a volte, però hanno un senso. Magari dopo qualche anno ti accorgi e dici meno male che quella cosa andò così. Anche se in quel momento mi sono disperato o disperata, però meno male che allora andò così perché quella situazione mi ha portato a quest'altra cosa. Quindi per me la comfort zone è un'illusione. Se viene intesa come qualcosa di dinamico, una condizione di equilibrio dinamico, sì. Allora ti dico che esiste. Ma una fotografia di una situazione che ci fa stare bene, che possa durare a lungo, no, non esiste. Perché l'essere umano comunque è mutevole, anche Giuseppe Verdi nella sua aria, no? La donna è mobile, qual piuma al vento. Ma perché così? È tutto cambiato. Allora, l'unica cosa veramente certa è il cambiamento. Ecco, quello sì. Poi per il resto, anche quando sai tante cose, cioè ti accorgi che più sai e più c'è da sapere. Quindi è una battaglia persa. Quindi a quel punto bisogna anche essere un po' fatalisti, passami il termine. Un po' come dire, ma sì, ma le cose si mettono a parte. Io posso avere una partecipazione attiva, ma non c'è stato tutto. Cioè, se non c'è stato un po' per la strada, che qualcuno ha. Boh, è un aleatorio. Come facciamo a stabilirlo? Non lo fa nessuno. Però succede. Il messaggio di questa sera è abbracciamo tutti, eh. Perché la vita è un mistero. Ci illudiamo di poterla controllare, capire. Ma è un mistero. Allora, intanto io chiedo scusa alle persone che stanno commentando, non ho gli occhiali dietro e non vedo i commenti. Mi dispiace. Allora, te li leggo, te ne leggo qualcuno. Ok, vai Franci. Renzo Di Renzo, per me personalmente non sono d'accordo, ma so di avere un animo molto femminile. Marina ti scrive, io credo che non esista un posto ideale per uscire dalla comfort zone. Io credo che il punto fondamentale sia lo star bene con se stessi. E' importante la forza che si ha dentro nell'accettare ogni situazione. Ovvio è che questo si raggiunge con il bagaglio di esperienza personale. Sono d'accordo anch'io. Giusto. E' un po' come ripulirsi, no? Facciamo un lavoro di pulizia tutti i giorni. Cioè ci puliamo dalle nostre convinzioni, dalle nostre... anche dalla nostra storia. Perché ho a che fare con molta gente ogni giorno. e ti assicuro che il 90% delle persone con cui parlo parlano del passato. Non parlano mai né del presente né di un futuro eventualmente. Il 90%. Ma lo sai che una volta... ma lo sai cosa mi è successo? Ma lo sai che per colpa di... quella volta ho fatto quella scelta? E il passato non si può cambiare intanto. Però la maggior parte di noi vive nel passato perché siamo molto testa nella nostra vita. Siamo molto testa quando invece dovremmo raggiungere un equilibrio tra corpo, mente e anima. Ci sono dei momenti in cui la testa è importante, in cui bisogna prendere decisioni, bisogna razionalizzare, bisogna essere logici e analitici. Ci sono dei momenti in cui invece bisogna essere creativi, intuitivi. E allora, a seconda della situazione, dovremmo dare una priorità, che non è proprio una cosa facilissima. Però con l'allenamento ci si può arrivare, perché l'intuizione è pura importante. Quante volte ci troviamo di fronte a una persona e diciamo non so perché ma quella persona mi piace. Boh. o viceversa. Non so perché ma quella persona non mi convince. Lì col pensiero analitico non capiresti niente perché l'hai vista la prima volta quella persona. Però l'intuito, qualcosa ti dice che non ti piace o che ti piace. E il 90% delle volte scopri che hai ragione. Le famose sensazioni. Vedere dietro l'angolo senza essere dietro l'angolo. Tu vedi, no, di là del muro, però sei di qua. Per cui, ecco, dovremmo arrivare attraverso tutte le nostre fasi della vita a una completezza, quindi a una pulizia, ad essere, a sciogliere quasi tutti i nodi che abbiamo dentro per rimanere puliti. Allora lì poi comfort zone, non comfort zone. Sapere che comunque c'è una saggezza di fondo dentro di noi che ci permette di affrontare qualsiasi cosa. Poi ti scrive Fabrizio, verissimo, io dopo aver chiuso con 27 anni di matrimonio sto da Dio. Oh, caspita, 27 anni. Allora, vi rendete conto? Cioè, 27 anni insieme a una persona puoi chiuderla. Solamente il pensiero, uno dice, accidenti, come ha fatto? fatto. Cioè, come te la dimentichi, tra virgolette, perché non la dimentichi, una persona con cui hai vissuto per 27 anni. Dici, però, ora sto da Dio. Evidentemente, come dire, la fine di un matrimonio, di una storia più o meno lunga, parte da prima. Tu, Francesca, quanti anni hai impiegato? 12? 10? Quanti anni di matrimonio hai fatto? Eh, io 7. Ah, tu proprio da libro? Sì, sì, da libro. I famosi 7 anni. Sì, sì, 7 anni e sono 20 anni che non mi sono più sposata, non ho più convissuto, sto bene in questo limbo. Ma io, vedi, a volte io sento, come ha scritto Fabrizio, maledire, no? Vedi, ah, finalmente sto bene, mi sono levata a questo piede. A parte che per me è stato un fallimento, però, io sono quella che con gli anni è riuscita a guardare sempre e guardo sempre il positivo nel negativo. Io, anche se ho chiuso il matrimonio, io, a Roberto, il mio ex marito, gli voglio bene. Cioè, io mi voglio ricordare solamente le cose belle. Certo. Perché se ci sono stata vuol dire che amore c'è stato. Poi, strada facendo, se le cose non sono andate, ok, può succedere. Già. Io, cioè, non dirò mai finalmente, me lo sono levato dalle scatole, mai, perché lui è un pezzo della mia vita. esatto. Perché, vedi, ci sono due cose da dire. Vabbè, intanto, Roberto, io l'ho incontrato un paio di volte, è proprio una persona squisita. Sì, sì. Ecco. Quindi, proprio volere male a una persona così è proprio una bestemmia. No, non fatti. E poi, dall'altra parte, c'è un discorso di rispetto. Ti spiego in che senso. Io sono stato, ti faccio un esempio, sono stato vent'anni con una persona e poi ci lasciamo. Anche se non siamo più innamorati, quindi che ci siamo lasciati, rimane il rispetto e l'affetto. Ti spiego in che senso. Se tu una persona l'hai amata, anche dopo che vi siete lasciati, non gli puoi volere male. Esatto. Se l'hai amata davvero, quelle coppie che si lasciano in malo modo vuol dire che non si amavano neanche prima. Questa è la mia idea. No, no, certo. Non ho la verità in tasca, lo ripeto. Ma secondo me, se tu hai amato veramente una persona e poi l'amore finisce, non ci deve essere una causa. Può finire, perché è finito il percorso dell'anima e quindi finisce e ci dobbiamo aprire a strade nuove. Secondo me, se si lasciano in malo modo vuol dire che non si amavano neanche prima. Perché se tu hai amato veramente una persona e non la ami più, dopo non gli puoi volere male. È impossibile, secondo me. O non gli puoi amare, oppure non puoi pensare e dire guarda quello stronzo o quella stronza. È impossibile perché c'è il rispetto. Puoi dire vabbè, non siamo andati più d'accordo, non ci amiamo più, però è sempre il rispetto perché ci siamo amati. esatto, no? Anche io la penso come te. Ora, a parte i primi mesi di discussioni, perché è normale quando una persona subisce una decisione, però io devo dire guarda, anche agli anniversari tutti gli anni viene Roberto con mia figlia e ora anche la compagna, la Laura, ma è anche un modo per dimostrare che rimane sempre l'amore, un amore diverso. si trasforma, sì. Si trasforma e anche per dimostrare che se si vuole una storia può finire, però può rimanere come hai detto tu il rispetto e l'affetto perché con quella persona ti ci sei sposata, hai fatto un figlio, una figlia o nessun figlio, però abbiamo fatto un pezzo di strada insieme. Poi può finire o perché non si va d'accordo o perché c'è un tradimento, ma io perdonerei tutto, però un pezzo di strada l'abbiamo fatta insieme. Per cui io al mio ex marito ma nemmeno morta gli augurerei un qualcosa. E poi c'è anche da dire che a volte, sempre in questo caso, cioè sempre, in tutti i casi quando finisce un matrimonio è sempre meglio che quando non ci si ama più e non finisce. esatto. Perché come si fa a stare con una persona che non ami più? Sì, ma a volte vedi le persone dicono per i figli. Per i figli, è una delle più grosse cazzate che abbia mai sentito in tutta la mia vita. Esatto. Anche perché i figli lo respirano, lo respirano. Bravo. Lo sentono, lo sentono. Lo sentono, lo sentono. È una scusa perché magari non hanno il coraggio di lasciarsi, però, ripeto, ci sono matrimoni finiti che durano 50 anni. Sì. Cioè che sulla carta durano, però sono finiti perché non c'è più niente. Ognuno si fa la sua vita, magari dormono in letto separato pure. Sì, stanno insieme perché è una generazione che prima non ti puoi separare, non devi divorziare. Per un'apparenza. La bellezza. Esatto. Per un'apparenza. Ci sono dei casi addirittura dove lei ha già, cioè si sono già lasciati ma con tre figli vivono sempre in casa, però lui dice non dire niente ai nostri amici. Perché? E lei ora piano piano sta cercando il modo di uscire da questa cosa, ma non di non dirlo agli amici, di formalizzare legalmente il divorzio evitando questa sua reazione che ci sarà probabilmente eccessiva del fatto che lui lo sa. Però finché all'esterno viene mantenuta questa parvenza di matrimonio allora lui sta buono. Ma appena diventa ufficiale questa cosa bisogna gestirselo. Quindi ci sono poi anche degli uomini che diventano, o donne anche, che diventano incazzose quando poi finisce il matrimonio. Te la faccio pagare. Che devi fare pagare? Ma ringrazialo che ti ha lasciato che ti puoi aprire a una nuova vita, no? Come puoi stare con una persona che non ti ama più? Sei senza dignità. E lo so ma io infatti Pierluigi lo dico sempre quando ci ritroviamo più che altro a Friends Cafe perché è la serata dove non c'è musica e dove possiamo parlare tanto io agli uomini glielo dico sempre in fase di separazione un uomo anche se nasce tre volte non avrà mai la cattiveria di una donna perché noi siamo tremende tremende cioè usiamo i figli come scudo cioè io in dieci anni non ho sentito talmente tante e non mi ci abituo mai quando vengono usati i figli l'odio verso i genitori quando viene imposto di non vederli di iniziare lasciamo stare i padri che se la danno a gambe quella è un'altra categoria però io parlo e dico ok il matrimonio è finito ma è finito fra voi due i figli non ci combinano niente ma non capite che questo comportamento perché poi essendo stata due anni in un'associazione di affido e preaffido con la Roberta la mia amica io ne ho viste talmente tante di queste situazioni e tutto quello poi che è successo ai figli cosa hanno subito e cosa sono diventati che io dopo due anni alla presidentessa alla Roberta gli dissi io vengo via ma perché perché non ce la faccio perché io vedere che noi adulti siamo così cattivi cioè per fare una guerra fra me e te dobbiamo mettere di mezzo un minore o anche un ragazzino e che danno gli anni che si fanno ma poi cerchi di recuperare questi ragazzi qualcuno ce la fai qualcuno no guarda Greta ha scritto una cosa interessante dice rimanere insieme quando non ci siamo più quella è comfort zone ha ragione anche in un certo senso ha ragione perché comunque l'ignoto ci spaventa e quindi piuttosto che affrontare l'ignoto rimango nel matrimonio poi ci possono essere anche ragioni economiche per esempio anche ragioni di tipo la gente cosa dice la gente queste cose un po' no ma guarda Pierluigi nel 2024 sì ma nel 2024 c'è meno questo pensiero più che altro io quando parlo è per via della situazione economica che si è creata qui in Italia perché un padre dovendo versare gli alimenti io parlo di impiegato operaio non di manager avvocati eccetera persone normalissime che o vanno a stare a casa dei genitori perché da soli non ce la faranno mai allora dicono io non vivo perché se devo pagare un affitto gli alimenti ho bello è finito lo stipendio allora subisco magari le angherie di una moglie che ormai è diventata incontentabile non è più felice oppure io cerco di fare la mia vita io uomo approfitto della situazione perché tanto c'è chi mi lava chi mi stira che da solo non ce la potrei fare la cameriera sì la colf la badante la colf sì ora penso che sia più che altro una questione a me il giudice vent'anni fa me lo disse signora separarsi è per i ricchi io ero giovane queste parole mi sono ritornate in mente dopo tanti anni ed è la verità perché se uno non ha un tetto non ha un lavoro separarsi è davvero un problema e tante coppie stanno insieme proprio per questo è brutto a dirsi però la situazione qui in Italia non aiuta è squilibrata sì 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 per cui uno la comfort zone mettiamola così preferisco subire poi magari mi faccio l'amante fuori mi diverto provo ancora quelle emozioni e poi torno a casa dalla moglie dal marito quello che è perché uno non ci pensa io dormo sul divano e te dormi nel letto no? sì sì certo certo e come tanti dicono sono separato separata in casa sì vero per quale motivo vero vero cioè non ci affetto non ci amore il modello è quello sì sì è una come dire una cosa puramente economica sì sì ecco esatto e uno si rifugia poi perché comunque vedi uscire dalla comfort zone in quel caso come dici tu per un uomo diventa veramente difficile perché comunque se la legge ti obbliga ad alimenti quindi capito non è che dici sai sono da solo ci lasciamo c'è il mio stipendio mi ricostruisco in qualche modo invece lì magari te devi andare alla casa rimane ci sono anche storie dove la casa è intestata a lui lui paga il muro lui va da un'altra parte lei col figliolo rimane nella casa coniugale che è di lui sì e oltre al muto deve pagare gli alimenti gli alimenti e l'affitto poi perché lui se ne va in affitto da qualche parte no lì è impossibile io parlo di persone normali sì sì ma infatti se te vedi tante persone tanti uomini vivono in camper questa realtà perché non si possono permettere una casa e sono fortunati che ai genitori ritornano a casa ma non perché sono mammoni o babboni ma proprio per esigenze perché c'è uno squilibrio anche da parte dello Stato le leggi fra uomo donna io sto zitta perché io il mio giudice credeva che mi avessero obbligato perché io ho rinunciato agli alimenti su mia figlia io non lavoravo il mio marito mi manteneva ai miei alimenti perché dissi te ti devi comprare una casa se io ti mando sotto un ponte tempo qualche anno mia figlia per me era un boomerang cioè se tu stai male le figlie sono tutte babbone se io ti faccio star male poi mia figlia se la rifarà con me certo certo scelte che tanti mi hanno detto tu sei una bischera tu non no perché lui ha comprato casa e io dissi con quel mutuo fai finta di pagarmi gli alimenti però almeno se lei ne ha una casa io l'importante è che non ci sia odio perché ecco e sempre insieme abbiamo portato avanti nostra figlia cioè noi è stata una separazione intelligente intelligente la definirei intelligente perché guarda prima di fargli pagare un affitto perché la casa non era pronta gli dissi stai qui per l'amor del cielo perché se no è inutile paghi l'affitto spendi soldi quando lui andò a casa nuova noi siamo andati indietro come gamberi mangiavamo tutti e tre insieme tutte le sere piano piano un giorno meno dopo due mesi le avevamo un altro giorno e le feste di Natale e Pasqua le abbiamo fatte insieme fino a tre anni fa finché la bimba infatti come dico sempre mia figlia non ha gli occhi pallati perché io in questo gruppo quando a volte conosco dei figli Pierluigi li vedi lontano un chilometro che hanno sofferto e stanno soffrendo assolutamente assolutamente perché anche i cambi quando io dico sempre voi vi separano io e te ci si separa io e te abbiamo già deciso da mo che la cosa non andava però i figli prendono la decisione quel giorno se dopo sei mesi tu mi porti un altro uomo un'altra donna e dopo due anni me ne porti un altro e me ne porti un altro o un'altra sti figlioli vedono più uomini e donne che figurine della Panini instabilità sì esatto trasmetti instabilità e quanti ragazzi ci sono che a 16 17 anni fanno già uso di psicofarmaci e vanno nelle cliniche apposta quando il genitore non capisce che la causa sono loro ma io mi devo rifare sì perché a me mi viene detto ma io mi devo rifare una vita giusto però te hai dato una vita e hai delle responsabilità perché se a me a 16 anni tu mi dovessi dire da specialista porta Selene da uno psichiatra per chi ha bisogno di stabilizzanti d'umore psicofarmaci caccia di dei cavolo è colpa mia mi metto in discussione ho fatto qualcosa perché i ragazzi di oggi fanno tutto anche troppo però quando li vedi io ne ho visto arrivare diversi in questi anni Pierluigi e il cuore soffre perché questi ragazzi non è giusto che a quell'età facciano già uso di pillole di psichiatri di psicologi quando bastava un pochino più di amore e di sacrificio farsi una storia fattela quando il ragazzo o la ragazza stanno bene quando hanno superato il lutto della separazione sì sì ma non è facile perché avvolge per niente per niente no no perché l'essere umano è diventato molto egoista non solo verso i figli Pierluigi poi io parlo da profana per quello che vedono i miei occhi o che hanno visto in questi dieci anni io mi metto al primo posto perché io sono al primo posto tutti gli altri vengano dopo io devo avere quella cosa io voglio è tutto io 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 e non si pensa cioè se non si pensa nei figli come fai a voler mi disse bene un esempio mio padre quando stavo insieme a questa persona che era un donnaiolo e mi disse non vuole bene a suo figlio come fa a voler bene a te che non sei niente per lui non fa una piega e con gli anni anche perché io io ci penso sempre a scoppio ritardato però poi mi viene in mente è vero se te non ami i figli e non gli porti rispetto come fai ad amare un estraneo e un estranea no è impossibile vuol dire che non hai l'amore dentro se non ami figli cioè se li vedi star male come fai dici sì tanto ci pensa a voglio sì ma ci pensa a voglio ma a voglio ci pensa un'ora una volta a settimana tre volte al mese però poi il più e va fatta a casa già guarda mi hai fatto venire bene dall'inizio della mia carriera c'erano delle famiglie che magari avevano dei figli all'elementare e le maestre gli dicevano magari dice fateli fare una chiacchierata con lo psicologo andate a fare una chiacchierata perché magari allora molte famiglie portavano questi bambini sperando che i figli diventassero quello che volevano loro eh sì ma c'è tutto tuttora eh questa cosa e ti diciamo guarda perché guarda che se sei venuto qui perché tuo figlio debba diventare quello che vuoi tu hai sbagliato proprio uscio diventerà quello che vuole lui certo e quindi nel momento in cui già cominciavamo magari a giocare insieme si accorgeva che non c'erano troppe restrizioni o troppe critiche poi rimaneva sollevato è stato buono tutta la settimana per forza perché io gli ho offerto un ambiente protetto dove lui poteva o lei potevano divertirsi protetti sapendo che comunque c'era un limite che veniva imposto ma in maniera ferma ma non violenta o non c'erano critiche perché sai ti faccio un esempio se io mi metto in una lavagna e scrivo la tabellina del 9 e scrivo 9 per 1 9 9 per 2 9 fino al 9 per 9 81 e scrivo 9 per 10 89 apposta se ci sono un gruppo di persone sicuramente passo nel termine c'è qualche stronzo che dice ah ma lì hai scritto 9 per 9 9 per 10 89 invece fa 90 dimenticando che da 9 per 1 a 9 per 9 ho scritto giusto sì la maggior parte della gente ragiona così c'è un foglio bianco col puntino nero vanno a vedere il puntino nero e non puoi vivere se tu educhi un figlio così lo educhi che non è mai abbastanza quindi altro che poi psicofarmaci gli ci vuole per addormentare questa angoscia di non essere abbastanza fare il genitore vabbè la patente non ce l'ha nessuno ecco perché anch'io nonostante tutto io ho fatto degli sbagli e tu lo sai no? perché tanto lo dico tranquillamente sì sì nella io ho cercato di fare qualche sbaglio l'ho fatto eh se ne sono male no sì però va bene delle cose per me giuste ora ma non madornali che gli hanno compromesso veramente il cervello perché quelli che ho visto io in questa associazione guarda certe situazioni non le auguro neanche al mio peggior nemico sì essere risoluti a volte uno sbaglio a volte essere troppi morbidi uno sbaglio qui non si sa mai come comportarsi io sono anche se io lo sanno tutti io per l'educazione dei figli sono modello crepe cioè io sono così dare avere fai e certo però poi hai la libertà degli studi anch'io perché sono stata una di quelle cosa vuoi fare io pago se te che devi scegliere voglio fare questo vai perché è inutile che come anche io sentivo tante mamme al tempo della scelta delle superiori no deve diventare un medico io le guardavo e dicevo ma è il desiderio del loro figlio o della figlia fare questo io dissi cosa ti piace perché se fai una cosa che ti piace rendi se devi fare una cosa forzata io spendo soldi faccio i sacrifici e non si ottiene nulla serve a nulla i figli sono del mondo non sono mica un prolungamento di te sono altro da te quindi faranno quello che vorranno loro tu l'unico messaggio che puoi passare so benissimo che te la cavi scegli tu poi se ti trovi proprio in una situazione difficile sai che puoi contare su di me mi chiedi aiuto ma non ti dico te l'avevo detto io perché tutti i genitori che pronunciano te l'avevo detto io gli dovrebbe cascare la lingua ma a tutti l'abbiamo detto e vi dovrebbe cascare la lingua a tutti e invece dire mordaci la lingua in quel caso per evitare che caschi e dire va bene ti aiuto io stop sì sì ma ti ho detto ci vorrebbe un corso bisognerebbe vivere dieci vite e si sbaglierebbe comunque esatto ma è proprio ma io vedi dico è il bello della vita no perché è proprio con gli sbagli che impariamo è proprio grazie agli sbagli che capiamo diventiamo consapevoli con gli errori se no dalle vittorie non si impara granché esatto si impara un po' dalle sconfitte poi ce le risparmieremo volentieri però la vita va così eh sì è un po' come le montagne russe Pierluigi ci sono le discese le salite e noi andiamo e noi andiamo quale confortzone noi andiamo noi andiamo come va va infatti come dico anche io in situazioni nuove che magari possono spaventare anche io negli ultimi dieci anni grazie anche al gruppo ogni situazione io dico io mi butto come va va non abbiamo niente da perdere esatto niente da perdere perché poi siamo a scadenza quindi a quel punto quello di quello che viene ma godiamocela la vita poi va male pazienza quello che viene esatto allora Franci io vi saluto tutti ti devo salutare perché non ho ancora cenato va bene Pierluigi noi ti ringraziamo come sempre allora io invito le persone che ci hanno seguito stasera ritrovate questa diretta anche sul canale youtube che ce la posterò domani ringraziamo tanto la Francesca che fa un lavoro straordinario proprio di utilità per il sociale diciamo quindi aiuta tantissime persone e quindi bene contento di partecipare mensilmente a questi incontri andate sul mio canale youtube trovate tanti video belli no anche su instagram 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 è il blocco il canale ho superato gli ultimila ho visto ho visto sicché seguitelo anche su instagram perché fa tantissimi video che portano a riflettere e vi fanno bene io sono la prima che appena pubblicavano la notifica e certo perché come abbiamo detto non si finisce mai di imparare eh no no per cui grazie Pierluigi e ci vediamo la prossima ci sentiamo saluta la Susanne grazie buona serata a tutti e grazie a presto ciao ciao grazie grazie